Buona caccia a tutti, io sono Cid del Valdenza e oggi con l'aiuto del quaderno delle specialità LC vi parlerò della specialità di Amico degli Animali. L'obiettivo generale di questa specialità è far capire l'importanza degli animali nell'ecosistema attraverso l'indagine dei bambini sulle caratteristiche dei vari animali, l'ambiente in cui vivono e l'utilità delle varie specie animali. Prima di iniziare potrebbe essere utile un dialogo tra il capo e il bambino per cercare di capire quale livello di conoscenza ha il bambino. Ad esempio se ha chiara la differenza tra curare e acudire un animale oppure se ha la possibilità di curare un animale se già lo sta facendo. Parlando delle prove pratiche, una prima prova potrebbe essere conoscere i vari macrogruppi che differenziano gli animali, ad esempio vertebrati, invertebrati, rettili, anfibili eccetera, per poi conoscere quali animali vivono nel nostro ambiente e le loro caratteristiche. Se è possibile il bambino potrebbe curare un animale e cercare di capire le caratteristiche dell'animale che sta curando. Prove un po' più complicate potrebbero essere ad esempio andare a intervistare persone che curano animali come degli allevatori o dei veterinari oppure far costruire al bambino una mangiatoia per uccelli o per altri animali. Per questa specialità è tutto, per altri esempi e suggerimenti vi aspetto sul nostro sito del Valdense e sul nostro canale con altre specialità. Buona caccia! Buona caccia!